Quindi si tratta di un ragazzo terribile che vive una situazione terribile, questo può spiegare in parte perché Verga non ha quel successo da verista che aveva avuto prima con quei romanzi fiorentini? È questa terribilità di Verga che influenza negativamente la ricezione dell'opera, io vorrei dare un esempio della difficoltà che aveva il lettore borghese a apprezzare Verga, a entrare nel mondo di Verga e questo esempio lo farei mostrando le illustrazioni del Ferraguti, l'edizione del 97 di Vita dei Campi era illustrata dal Ferraguti e il Ferraguti rappresenta in fondo il lettore borghese di Verga e dà infatti un'interpretazione edulcorata, pari di un'altra parla al perbenismo e quindi per esempio rappresenta Rosso Malpelo come se fosse un bravo ragazzo, lo rappresenta diciamo in un'ottica di amicisiana, questo era quello che voleva in effetti il pubblico borghese, la terribilità di Rosso Malpelo cozzava contro questa attesa del pubblico borghese e sarebbe significativo anche mostrare invece le fotografie che Verga faceva, mettere a confronto i disegni così edulcorati di Ferraguti con le fotografie di Verga, perché si vedrebbe allora come anche il Verga fotografo ha una capacità realistica, mostra anche gli aspetti sgradevoli della vita, quegli aspetti sgradevoli che invece il pittore Ferraguti edulcorava. Grazie a tutti!